voi le chiamate cerchio firenze 77 attraverso roberto setti 15 gennaio 1950 campis iddio e l'alef e il tau l'alfa e l'omega la e la z il principio e la fine il bene e il male lo spirito e la materia il tutto nel tutto tutto è in lui il male personificato non esiste chi nega questo diviene necessariamente politeista satana personificato in un angelo ribelle non può esistere perché torturando e punendo chi è andato contro dio servirebbe dio e non sarebbe più un ribelle a dio esistono invece due forze che sono contrarie ma non sono mai opposte voi le chiamate bene e male ed io le posso raffigurare nella natura il regno vegetale il regno animale ciò che assorbe l'uno sia il carbonio e rilasciato dall'altro sia l'uno assorbe il carbonio e rilascia l'ossigeno l'altro utilizza l'ossigeno e rilascia il carbonio l'assenza del male determinerebbe l'assenza della libertà senza la quale non ve coscienza tale coscienza non si acquisisce sottraendosi ad una di queste due forze attrattive ma essendone consapevoli pace a voi grazie a tutti